Ruba tre orologi tra cui un Rolex, oltre a monete d'oro da collezione, inglesi, francesi e sudafricane, per un bottino da circa 20.000 euro. Ma è stato individuato dai carabinieri con un'indagine lampo ed è stato denunciato. Si tratta di un 35enne che dovrà rispondere adesso dell'accusa di furto aggravato. L'episodio risale allo scorso venerdì, quando la centrale operativa ha ricevuto l'allarme da una dipendente di una gioielleria di Montevarchi che segnalava, ancora scossa, di aver subito un furto. Il ladro era arrivato a piedi al negozio con la mascherina sul volto. Con una fluente parlantina aveva convinto la commessa a mostrargli una serie di preziosi. Poi, approfittando di un momento di distrazione, aveva fatto manbassa di alcuni monili e si era allontanato. I carabinieri, analizzando anche i filmati di altri circuiti privati e comunali, hanno identificato l'uomo, lo hanno subito cercato a casa e nei luoghi frequentati abitualmente, ma è stato rintracciato solamente in tarda serata. Degli orologi e delle monete non c'era più traccia, però il 35enne indossava ancora gli abiti del colpo, così il cerchio si è chiuso inevitabilmente attorno a lui. La refurtiva è stata ritrovata solamente il giorno successivo a Figline da un comproro, incamerata senza essere registrata. Il titolare è stato così denunciato per ricettazione. Il bottino è stato infine sequestrato in attesa di essere restituito alla gioielleria razziata.